Cucu Bonjour Buongiorno amiche mie Direte Ancora un video registrato? Che succede? Niente Il vostro gabbro sta benissimo Un altro video registrato? Yes! Ma tenetevi bene Io oggi indosso questo capo Due pezzi Tagli a 40 A 49 euro lo sapete amiche mie E' da tempo che vi dicevo che vi indossavo questi abiti Vabbè ragazze sapete che Arriviamo a un certo punto dove proprio Tiriamo a cantare Lo devo dirvi 49 euro due pezzi tagli a 40 E di questo abito abbiamo 2,42 Eh si amori miei Questo che indosso io è 1,40 Guardate quanto è bello Un blu notte Solo 2,40 E quindi ragazze chi arriva prima Meglio alloggia Che dire? Se no che è una meraviglia Meraviglia anche Io non so veramente come possiamo fare Ve lo dico e ve lo ripeto E ve lo straridico Questi prezzi Vogliamo andare ad acquistare un pezzettino di pizzo Ma e vedere che pizzo è Cante facciamo vedere che pizzo è Meraviglioso E questo è questo Ragazzi lo volete chiudere? Chiudetelo Ma è il suo bello Anche la scollatura dietro è bellissima Anche quella davanti è meravigliosa Il nostro giurale per la vita 279 euro Beh che dire Se no che è una meraviglia Allora quello lo trovate dove? Mi raccomando Quando ci sono queste occasioni Che adesso andremo a vedere Ultimi pezzi rimasti Si salvi chi può E chi prende prende Chi non prende non prende Ragazzi non so cosa vi devo dire Andremo a vederli Abito 30 euro Un abito che potete usare per cerimonia Ma non lo sto a descantare più Ha fatto il suo corso Ha fatto il suo percorso È arrivato È andato Considerate che La donna sua vede in Brescia Taglia Taglia Dalla 40 Alla 54 Quindi Tutte queste forchette di taglia in mezzo Quindi 41 44 46 46 56 54 Un abito così Costava solo 79 euro Se non erro inizialmente Vero Caffè Te lo ritorni Che tu brava Mi fa di nuovo specie Non avervi dall'altra parte Perché io Interagisco con voi E il fatto di interagire Mi fa sentire Mi fa stare molto Ma molto Ma molto bene Anzi Mi completa Perché sapete che voi Mi completate Però Vi ho registrato A cosa serve A lanciare PAM 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 Questi prezzi Questi prezzi Questo 30 euro Qui credo di avere 2,42 Qui 2,40 Ok Quindi Fate una proporzione anche Con le misurine indossate a me 92 77 97 98 Qua Ma non è un problema Perché vedete che va svasato Ok Bene Forse qualche pezzo ancora Taglia piccola 42 44 Forse 20 euro di questa Nel frattempo Sono arrivati questi giacchini Di tutti i colori Nei colori nuovi E il giorno che sono arrivati Boom Boom E li abbiamo già risortiti 3 volte 79 euro Che dire se non che è Una meraviglia Qua siamo Brave Brave Ecco scrivete ai numeri lì Se non c'è riflesso Si si non c'è 348 75 97 730 349 50 83 457 030 80 30 61 Il fisso del negozio Chi di voi Può venire di persona Chiami la donna in negozio E fate le vostre richieste A lei Ok Così rimangono un pochino più libere le chat Da questa parte Allora Questi Vi ricordate che c'è in quattro colori E Nel video precedente Il giacchino bonton 59 euro Ok Camicia Camicia Guardate sapientemente coordinata Sapientemente coordinata Guardate con le caramelline Camicia fantastica Stupenda Meravigliosa Forse ancora un po' assortita Stupenda La potete abbinare con quello che volete 30 euro 30 euro 30 euro Mi avete ben sentito? 30 euro la camicia 59 30 Pantalone Blu Crepe Con lo spacchetto all'interno È una taglia 40 Non so cosa ci rimane Molto molto poco Ma insomma Al limite la mettete con un calzone bianco Con E poi adesso arriveranno Voglio dire Quelli attuali E una camicia così a 30 euro Potete sempre coordinarla In un raso meraviglioso 30 euro il calzone 30 euro la camicia 59 euro Il bon ton Giacchino corto fuderato Da questa parte Questa pantagonna Penso essere l'unica 30 euro E deve essere una 40 Ma veste 40 42 44 Ve lo dico subito Sempre in crepe Maglia Tenetevi forte Tenetevi bene Praticamente allo standard di oggi È tutto a 30 euro Quindi tutte le nostre maglie Tutte le nostre camicie A 30 euro E vado poi a mostrarvele Questo è uno dei giacchini In un colore splendido Che come vedete Lo abbiniamo alla nuova stagione Lo abbiniamo alle cose passate Eh? Dicono di non Dicono di vivere il presente Eh? Mimbe mia Di non guardare al futuro E di non Legarsi al passato Bene Per quello che concetto La mia vita privata Cercherò di farlo E fatelo anche voi con la vostra Cioè Il vivere il qui e ora Ma con tutti questi articoli Come faccio io a dimenticare il passato Quando vi propongo questo abito Che sia passato nella collezione Ma ragazze È uno È meraviglioso E quindi in questo caso Bisogna davvero Guardare al passato Così come per questa gonna Così come per questa maglia Così come per questi giacchini Che continuiamo a riassortirli E saranno nel nostro futuro Ok? Ok? Facciamo che Tutte le stole rimaste Oggi 10 euro Cate Ok Tutte Sono poche Ma tutte a 10 euro Ok? Bene Eh Lì vi ho fatto vedere il giacchino Del futuro Perché arriveranno sempre Tutte le nuove colorature Questa davvero È una cosa a cui non avevo pensato Qui non posso dire Non guardo avanti Perché come facciamo a non guardare avanti Come facciamo a non preparare per voi Tutta la nuova collezione Bisogna guardare avantissimo Dovrò dirlo a chi mi consiglia sempre queste cose Come faccio a non farvi vedere questo abito a 30 euro in pizzo Meraviglioso Tutto foderato Vedete Considerate che io indosso una 40 Quindi Perfetto 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 con questo gioco di trasparenza E questa manica Che è una meraviglia Bene Partiamo Yes 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 Non ho nemmeno bisogno di infilarmi gli occhiali Cate Ti rendi conto Perché alla fine Cosa faccio? E' semplice elementare Allora Ragazzi Voi avete visto che Nel passare Della Di tutti i video Dirette Non dirette Differite Voi mi trovate sul canale youtube Sulla pagina Gabriele Sabigliamento Donna Punto com Sul sito Sì che è quello Sulla pagina facebook Gabriele Sabigliamento Donna Trovate la posizione Se volete venire a trovarmi Trovate gli orari Trovate tutte le indicazioni Trovate i numeri di telefono Quindi scrivete su whatsapp Mi raccomando E poi trovate Tutta la serie scontata Di pantaloni a 30 euro Ok Praticamente i prezzi sono quelli 30 euro i pantaloni 39 euro le giacche 69 euro i cappotti 59 euro i giacchini bonton Cioè siamo a questo livello In attesa A brevissimissimissimissimissimo Ma proprio brevissimo Della nuova collezione Quindi intanto Favorita Favorita di questa camicia Che la potete portare con qualsiasi cosa sotto Con un bel jeans Con un bel jeans Con un bel leggings Bellissima abbinata al blu Bellissima ai colori che arriveranno Perché tra le altre cose Bisogna dire Che non ci sono colori che Tramontano Colori che non si portano Come si fa a dire che Non si porta Guardando al passato Una pantagonna così Quando abbiamo Un giacchino nuovo Appena arrivato identico Quando abbiamo Un bon ton Si può dire Del nostro oggi Ok A 59 euro Quindi Che guardiamo indietro Che guardiamo al centro Che guardiamo avanti Trovate tutto Per cui Abbiamo anche Forse qualche calzone Ancora in questo colore Io oggi Mi sono dedicata Alle camice Ultime modellature rimaste 30 euro La prendiamo azzurra Prendiamola azzurra Un bel calzone bianco Da abbinare alla nuova collezione Bianca Che dite ragazze Sarà sicuramente Un video breve Almeno che Ce la contiamo su un pochino Cosa dicono le mie amiche Cate E al momento niente Però Ricordiamo di fare Che cosa? Di scrivere su whatsapp Che dite Ecco Nero da portare Poi con tutto Perché Il tutto E tanta roba Che dite voi ragazze Quindi i colori Sono questi So che lo sapete Ma la novità è che le abbiamo portate Gli ultimissimi pezzi Chiedeteli su whatsapp A 30 euro E poi credo che Faremo la svolta Gireremo l'angolo Cosa dici? Esatto Va bene Poi magari qualche video Viene sul nostro Ale E badabam 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 Ancora qualche pezzo di questa Chiedete le taglie Amori miei Oggi non vi sto a dire Abbiamo in questa taglia Abbiamo in quest'altra 30 euro queste camicie E credetemi che sono Stupende Lasciate aperto un bottoncino La potete portare a giacca Quindi con sotto una canottina Un top Capite? Potete farne quello che volete 30 euro Qualcosa di assortimento Poco Ma è meravigliosa Con questa goccia Con questo bottoncino Con questa manica Così Cosa di bello? La sciancratura Vedete E la lunghezza Meravigliosa 30 euro Sono camicie che costavano Dalle 59 Alle 69 Alle 79 euro Come questa Che Come vedete Originalità E la manica Bellissima Stupenda Meravigliosa Guardatela Abbinata anche qui sopra Potete metterla su un jeans Su un abito bianco Aperta Chiusa Ragazze Fate voi il vostro gioco Scegliete voi Su cosa abbinare Questi capi Meravigliosi So che tante di voi Ce l'hanno nell'armadio Quindi profondo rispetto Per chi l'ha comprata A prezzo pieno Però sapete che siamo Oramai A febbraio Dobbiamo fare il giro Con la nuova collezione Non si guarda più Cos'è stato Il passato Ma si vive nel presente Facendo questi prezzi Pazzeschi 30 euro Potete immaginare Nemmeno il costo Del tessuto Ok Poi chiedete le misure Dove mori su whatsapp Questa è la stessa identica Che c'è sul manichino Così fai vedere anche un po' la scollatura La Tra le altre cose Guardate è una fantasia Eccezionale Eccezionale In certe modellature Abbiamo avuto la possibilità E di riprodurla Fai vedere sul manichino E di riassortirla Diciamo così Perché a volte Abbiamo delle pezze Con una metratura maggiore Altre minori Altri Magari qualche volta C'è un difettino nel tessuto E va scartato Di conseguenza Quella che magari Vedete più assortita Non è perché È la meno venduta Ma perché Magari è la più prodotta Ecco Dico una favola L'avete vista Nel video precedente Sempre in quello registrato Indosso a me Ragazzi cosa vi devo dire Gli ultimi pezzi Concedetemi Chiedovenia A 30 euro Non guardiamo più in faccia A nessuno Nel senso Nemmeno alla nostra Ok Questa meraviglia qui Se io ve la indossassi Con questo scollo profondo Quadrato Con questa manichina Con questo spacco Con questa culissa Ricciatina Che arriva Dove deve arrivare Ovvio Ne abbiamo qualche pezzo Taglia 40 40 42 io la porterei Visto che non ha Il polsino in fondo Ma un bello spacco 30 euro anche questa Nero È sempre bello E questa Sono rimaste solo tagli alte Credo 52 54 Comunque chiedetela Perché questa ad esempio Portata Anche la sera d'estate Al mare Con magari una pantagonna chiara Con qualcosa sotto Un pantalone bianco Voi chiedete Che abbiamo anche i pantaloni Nella 54 bianchi Potete fare quello che volete Magari direi Spostiamo questa ancora un attimo E poi Andiamo così avanti Con le camicie 30 euro Quest'altra sempre taglia Non è che Anche qui Siano state vendute in meno A volte le forchette Escono con più taglie 40 Con più taglie 54 A seconda di come Viene tagliata la pezza Sapete che poi In questi dettagli Tecnici La nostra Antonellina È magica E appena possibile Faremo un video insieme Comunque 30 euro Costava 79 euro Ed è una meraviglia Vogliamo farla vedere da vicino Cate ci dici qualcosa Che ti vedo silenziosa oggi Eh devo stare concentrata Su quello che vedo Concentrata Concentrata su quello che leggi Che vedo Sui commenti delle nostre amiche Cos'è che ti dicono Cos'è che ti dicono Che oggi Che ora è Adesso sono le ore 16 E stiamo già registrando il video Nella nostra stanza dei sogni e dei desideri Quindi io penso proprio A negozio aperto Ci sono le nostre amiche di là Che stanno acquistando E Che dire Cos'è che stavo dicendo Non mi ricordo più Ha 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 Siamo nella stanza dei sogni e dei desideri Esattamente Dobbiamo anche ringraziare la Isa Per il langurino Che ci ha tolto Quando è venuta la volta scorsa Sì 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 Ci ha tolto un langurino Sì ci ha tolto un langurino E ci ha portato i dolcetti Fatti da suo marito Meraviglia Delle meraviglie Comunque ve lo sto anche a dire Che poi da Genova La focaccia è arrivata Vi ricordate Nel video Quando io lo dissi Perfetto Quindi abbiamo fatto Un bellissimo Consegno ritiro Non fatemi venire La brillante idea Di consegnarci qualcosa Che non ci mettiamo d'accordo Scherzi a parte Siamo delle golosone Comunque Tornando a noi 30 euro Ed è meravigliosa Guardate io adesso Non vi posso più dire le taglie Ne ho presa una per Inoltre In Berescia ci assiste I negozi Abbiamo un po' tutto Voi ci scrivete Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando su WhatsApp Ok? Bene E chiedetele lì Questa altrettanto Se non è bella questa Ma però guardate Proprio Pochi 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 pezzi Solo i pochi pezzi Ci permettono Amiche mie Di fare questi prezzi E sembra Uno scioglilingua Ma non lo è Ok? Pochi pezzi Per fare bassi prezzi Ok? Comunque Si avrei sono inventata una Anche oggi Kate Saranno i dolcetti Che abbiamo mangiato prima Fotonici Fantastici Sì Mi fermo un attimo Questa tra le altre cose È una 54 Perché uno dice che non ci vedo da vicino Ha ragione Ma comunque poco importa Non ho messo gli occhiali Ma non mi servono Tutto 30 euro Devo neanche leggere i prezzi Cate 30 euro costava 79 euro E questa meraviglia qui Che è uguale a quella nera Che ho indossato qualche giorno fa Va bene va bene va bene Guardate il colore Cioè Guardate come sta bene qui Come sta bene col viola Come sta bene col verde acido Come starà bene col verde mela Quando arriveranno le cose verde mela E Capiremo che verde mela Sarà quello che sosteneva Ale A prescindere da quello Voi queste beccatevele Mettetevele nell'armaggio E poi troverete sempre Con che cosa Abbinarle Ok amori miei Questa è la stessa modellatura Sì No Sì Esattamente la stessa Perché ha la spallina E Praticamente Credo che sia Una delle poche L'ultima Non lo so Vabbè l'ho messa dentro lo stesso Black Sceglietela Fate quello che volete Unicissima Questa Taglia 54 Stupenda Meravigliosa Spero che Le riproduca In altre fatture In altre La stessa modellatura In altre fantasie Tessuto Tessuto In altri colori 30 euro Che dire ragazzi Questa è l'unica cosa che ho il dubbio Ecco perfetto Quindi ci sono Aspetta che Ah no Quindi questa è l'unica A 20 euro Perché La possiamo Questa non l'ho messa lì Perché sapete che questa è a 20 euro Ok Quindi Cos'è questa È una canotta Stupenda e meravigliosa Tra altre cose Vedete anche il fornitore Guardate Eh Lino è seta con una riga Anzi Viscosa Lino Eh Con una mano Di 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 Guardate la meraviglia Collo pellicano Se non è stupenda Questa Questa Canotta Vi dico anche la misura Essere una S Quindi 40 42 Fantastica A 20 euro Magari Può darsi che Sfuggita Quella che abbiamo qui Bene L'avete vista indossata anche a me Tutto passa a 30 euro 30 euro questa E ve l'ho mostrata prima 30 euro col foro E con la manica Vedete Guardate La vedete La La Guardate Qui si vede anche molto bene il riflesso Eh Con Diciamo una punta di oro Molto 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 bella 30 euro 30 euro Chiedete le taglie su whatsapp se siete interessate Qui Abbiamo il bronzo Che anche quello cangiante come il panna La stessa cosa Si vede leggermente meno perché questa è con l'argento Vedete 30 euro 30 euro 30 euro le maglie Tutte a 30 euro Questa è l'ultima Ve lo dico subito Eh sì Questa non so se poi quando finiamo il video ci sarà ancora comunque sia 30 euro Anche questa c'è tutte le maglie Questa compresa che è la stessa modellatura Abbiamo 40 e 44 ve lo dico non di più Questo è un pezzo solo Ragazzi d'altra parte È così Questa è una 42 Questa è una 40 E c'è una 54 Comunque chiedete sapete benissimo dove Cliccate Whatsapping Whatsapp 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 Questo Per dirvi che E con la manica lunga E senza manica Tutto A 30 euro Vi ricordate anche che la fantasia Come nelle camicie È quella cosa che incide più o meno 10 euro in più Perché Si prende il tessuto Lo si Lo si Lo si lavora Lo si stampa Ok? Quindi si parte da un tessuto neutro Come vi ha già spiegato la nostra Antonella Si sceglie la fantasia Perché facciamo anche quello Quindi possiamo anche dire che sono fantasia Questa cosa non ve l'ho mai ricordata Sono fantasie esclusive Nel senso che difficilmente trovate una fantasia uguale Certo Non siamo gli unici Però Se io vado a scegliere una fantasia Dico me la stampi su questo tessuto Mi stampi questa maglia su questo tessuto Questo colore su questo tessuto Capite che è molto più difficile Trovare con gli stessi articoli E se dovesse capitare che magari vedete qualcuno con una maglia così Potreste dirle L'hai acquistata con il cuoricino? Con il nostro Medimbrescia Cuori dappertutto Che dite amori? Bene 30 euro 30 euro queste Ve le ho già spiegate Già fatte vedere Ma siete sempre tantissime nuovissime nella nostra grande famiglia Che anche oggi sicuramente sarete in tantissime nuove E direte O cosa? O come? Io non ho capito E qui e là Scrivete su whatsapp E avrete tutte le risposte sulle spedizioni Sui pagamenti Sulle taglie Su tutto quello che volete Senza sentirvi impegnate 30 euro tutto quello che vi sto facendo vedere Partivano dai 59 ai 79 euro I nostri le nostre maglie Ah no queste no Sono due maglie E sono Vi dico subito In questo caso Sono due 48 Però insomma dai 46 È una maglia stupenda Praticamente l'effetto sarà quello di Io trovo che sia benissimo Uno scorcio di pelle Quindi con questi due stringhini Anzi tre Che sono una meraviglia sulla spalla Poi con questo foro qui Con quest'altro qui ragazze Dai 33 Opla Quando così è sempre venduta Kate Lo dico sempre tutte le volte E poi è vero È vero È vero È vero È vero Perché? Perché non è sulla brucia Con i gancetti Annaggia Qui è La capiremo un giorno o un altro Vero Kate? Non noi Allora Che dire tesoro? 30 euro Maglie con l'incrocio 1 2 3 4 5 Sono meravigliosa 30 euro Direi proprio di sì Eh Ne potete abbinare Un attimino sotto a tutto Sotto alle camicie Che si possono aprire tipo giacca O comunque sia Sotto qualsiasi cosa Sicuramente stiamo aspettando I nuovi arrivi Che costeranno dai 49 59 euro a seconda delle fantasie In questo caso Questi meravigliosi colori Da sotto giacca Io Mi credete che In certi colori le ho prese doppie Perché magari una volta ho messo Una Una collana Che mi aveva tirato un filino Mannaggia E quindi ho detto No 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 La voglio uguale identica Sono capace a comprare anche Due cose uguali Pur di non perderle Quindi amore miei 30 euro Poi di una femminilità L'ennesima potenza Con questo scollo così Eh Che gestite eh Potete Vi dico sempre Sormontare sopra il seno Oppure Scrociarla Tenerla sotto Io le scrocio Perché mi piace la scollatura Come in tutte le cose Bene Le nostre maglie Sono sicuramente Un pochino più pesantine Di quello che vi ho fatto vedere Finora I colori erano questo Bianco Nero E verde Che dire Sono maglie Che se le volete acquistare A 30 euro Fatelo pure Dopodiché Bimbe mie Le porterete Quando vorrete Adesso c'è ancora Del tempo per farlo Quindi vi faccio vedere Anche La lavorazione Che è stupenda Super 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 Elasticizzata C'erano anche le sue gonne Anzi Qualcosa c'è Ma non vi so dire Poi le taglie Oh scusate Questa è un'altra cosa Quindi questa Una longhette Stupenda Meravigliosa Femminilità L'ennesima potenza Ragazze E da portare Con O la sua maglia E quindi diventa Un completo Molto 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 carino Vedete Anche questo Super femminile La gonna sotto Inciuciata Come piace alla vostra Gabri Vuol dire Che deve scendere Asciutta Cioè Seguire il corpo E allora Anche se mettete Una maglia sopra morbida Bislancia Ok 30 euro la maglia E 30 euro la gonna Ecco perché Abbiamo tutto di là A 30 euro Tutti gli abiti A 30 euro Tutti i pantaloni A 30 euro Già che a 39 euro Non so più che cosa è rimasto Sicuro che a 30 euro Abbiamo questa gonna Meravigliosa Stupenda Stupenda Che guardate In ecodainetto Stampato Meraviglioso E di una morbidezza Ve la faccio vedere Cosa intendo per morbidezza In morbidezza Intendo che sta in una mano Ok Sta in una mano Quindi potete abbinarla Anche se volete Alla sua maglia 30 euro Ragazzi qui Gestitevi un po' voi Colore Quello Colore Questo Naturale Quindi ci abbinate di tutto Ci mettiamo questa maglia A 30 euro Facciamolo 30 euro Il color jeans Quindi Potete davvero Fare Cos'ha questa Aspettate un attimo Che è Allacciata male Ecco scusate che è scesa Mettiamo la giusta Sapete a volte Ci sono anche Magari Clienti che arrivano E poi velocemente Mettono e piegano Delle cose in camerino Magari se non diamo un'occhiata Magari più che veloce Vedete qui c'è il fiocco Quindi viene anodata Cosa devo dirvi Vediamo se No Non ce ne ho nemmeno una allacciata Quindi L'avete vista indossata a me Quando Volete Avete voglia di andare indietro nei video Vedete tutto indossato sapientemente Adesso Visto che siamo a fine stagione Sempre di corsa Con tutte queste offerte Le cose Vengono appese Sì tutte ordinate Ma se proprio Non stiamo a fare il fiocco Ci capirete E Comprenderete La vostra gabri Colori Quelli che vi ho fatto vedere Tutte a 30 euro Partivano dalla 40 Alla 54 Chiedete 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 Secondo me Arriveranno anche delle bellissime camicie Che abbinate qui Fanno un completo Cate che dici te Sicuro Secondo me Sì Tutto quello che vi ho fatto vedere finora Quindi Tutte le casacche Tutte le camicie Cioè potete Coordinarle Ancora Con la gonna palloncino Certe camicie Sono rimaste a taglia grande Quindi Queste gonne E gli sbragati Sono rimasti in taglia grande Quindi A 30 euro Potete pensare Di prenderle E di abbinarle Per dire Con Con le camicie a 30 euro Che vi sto facendo vedere Ora cosa dite 30 euro Le gonne palloncino Giusto per dirvi che qualcosa Nelle taglia grande c'è ancora E 30 euro Abbiamo anche il grigio Che magari un po' che non ve lo faccio vedere Ma 52 52 54 50 50 Ecco Dalla 50 alla 54 Questi sbragati Quindi arriviamo anche fino alla 56 Ragazze Cioè non so Se ci fosse ancora questo abbinamento E Quello che volete anche per dire questa Con questa camicia Io non sto adesso a farvi i coordinati Però ragazze Pensateci voi Scrivete sui numeri E come Per magia Come se voi foste in camerino Noi vi consigliamo Vi proponiamo E vi accontentiamo Non solo perché siamo Nella stanza Dei sogni e dei desideri Ma perché la vostra Gabby cerca di fare questo Già con questi prezzi Più di così amori miei L'abito che indosso ve lo ricordo 30 euro Magari Appena finito il video Fum è già volato Sapete che voi dovete scrivere su WhatsApp E che prima arriva Prima becca Ok Lasciateci il tempo di rispondere Siete numerosissime Come sempre La vostra Gabby vi adora Se c'è qualcosa che volete chiedere Mi raccomando ai numeri che trovate lì Li trovate dappertutto Ok Canale YouTube Sito Gabriela Sabigliamento Donna Pagina Facebook Gabriela Sabigliamento Donna Trovate tutto 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 Poi se volete Prendere anche in fiducia In quello che dico Leggete i commenti Delle nostre amiche E Se siete nella nostra grande famiglia La fiducia è sicuramente d'obbligo Ok Quindi Trovate questi capi a questo prezzo E poi vi direte la qualità Tutto Lavare e non stirare Una cosa da imparare La vostra Gabby vi adora E ci vediamo dove Prossimamente Dove 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 Su questo schermo Se non in registrata Se non in differita In diretta Ciao bimbe Vi voglio bene Ciao bimbe Bene Ciao bimbe No Sì Dove No 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 No